Ciao a tutti, oggi è martedì 5 giugno 2018, mi trovo qui in via Tortona e facciamo conto che sia una via come tante in Alessandria. Salve! Questo perché? Perché tutta la città è tutto un cantiere, guardate, tutte transenne, si lavora, intanto dove vai vai ci sono cantieri. Vabbè, da un lato è un bene perché il progresso deve avanzare, i lavori se ci sono è tutta una ripresa e che va bene, vedete, stanno impiantando le linee nuove telefoniche, buongiorno, qui abbiamo gente che lavora, vedete, e che va molto bene. Ok, io vi saluto, e ci si vede in un altro video. Ciao a tutti!